... ... ... ... ... Hai detto non ci fa caso se il principale è un po' scorbutico? Purtroppo quando lavori i sordi ti regalano assù E' che fratello che c'ho! Ma di chi hai preso? E' di San Sebastiano Marti Buongiorno A Sarpie questo è a mio fratello che gli avevo parlato Non ci avete mica ripensato? Va bene, va bene Allora io vi saluto a Sarpie Arrivederci Vogliate lavorare a Sarpie addosso Lavora padre mio che io non posso So Ero